la ragazzi bentornati e benvenuti sul canale del coatto dello svapo ci rivediamo stavolta con un kit entry level il nuovo ijustics d leaf andiamo a vedere meglio va ragazzi vediamo più nel dettaglio questo kit entry level di ilif ijustics vediamo questa scatola enorme perché il prodotto effettivamente è molto molto grande e vediamo sul frontalino proprio la raffigurazione della box marchio ilif sul lato il sito che richiama proprio ilif www.ilifworld.com e diciamo al lato posteriore troviamo tutte le descrizioni di quello che c'è dentro la scatola quindi una just x con una resistenza da 0 3 una di ricambio da 0 5 un cavo usb un manuale di istruzioni e le parti di ricambio voltaggio in output massimo 50 watt eccetera 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 scratch and check per l'originalità del prodotto ma andiamo a vedere all'interno cosa troviamo la troviamo ne più e ne meno la sigaretta elettronica la box e all'interno proprio quello descritto quindi cavo usb le o ring di ricambio per l'apparecchino e due resistenze una da 0 3 e una da 0 5 io soffrirò di quella da 0 3 che sono né più e ne meno quelle solite di ilif del melo 3 melo 2 adjust s adjust 2 eccetera 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 conosciute strariconosciute funzionano molto molto bene e su questo punto di vista sto un po più tranquillo per quanto riguarda questo prodotto la lavata scartare la mettiamo successivamente quella da 0 5 la lasciamo all'interno possiamo tranquillamente togliere la scatola molto molto semplice e basica come tutti i prodotti di ilif e andiamo a vedere le finiture di questa box che non ci si capisce niente perché sinceramente dico la verità questo è un prodotto con atomizzatore diciamo serbatoio integrato forse sicuramente fatto uscire per la tpd forse io personalmente mi perderò qualcosa perché è tutta una cosa nuova però so che comunque anche atomizzatori integrati con chiusura antibambino non potranno superare i 2 ml invece qui abbiamo 7 ml di serbatoio quindi ragazzi lasciamo tutto al caso e vediamo quello che succede parliamo solamente del prodotto e vedo che comunque le finiture sono ottimali è anche un prodotto se vogliamo elegante un po pesantuccio ma insomma abbiamo una batteria da 3000 mAh una capienza liquido da 7 ml e niente insomma diciamo c'è un peso giusto batteria litio integrata col carica con l'ingresso micro sb per la carica della batteria andiamo a vedere qui all'esterno nel posteriore il marchio CE con le viti di serraggio che vanno a bloccare tutto il corpo centrale la scritta ijust x tasto power di accensione e fire per utilizzarla il marchio elif sopra e qui abbiamo il drip tip intercambiabile con attacco 510 che potremmo comodamente cambiare con quello che più preferiamo da quel che vedo e da quel che ho studiato quel poco ho studiato questo prodotto perché si va sempre di corsa non c'è una regolazione d'aria abbiamo il tappo che va a fare da grip per non far entrare aria e c'è qui diciamo il camino interno dove va in connessione proprio questo top cap superiore e l'asola laterale per il refill ricarica del liquido allora 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 vediamo qui la parte svitabile posteriore per andare ad inserire la coil la resistenza si svita si svita si svita eccola qua abbiamo questa sorta di deck chiamiamolo deck con lo sfiato d'aria posteriore questa sarà l'aria che andremo a pescare no per il tiro senza regolazione va montata la resistenza in questo modo qua montata la nostra coil l'andremo a bagnare bene mi raccomando allora prendo il liquido allora ovviamente ci si potranno montare anche le coil da 0 3 quelle con fori di alimentazione più grandi per mettere magari dei liquidi 70 30 80 20 e parlo delle 0 3 o le 0 18 con pin placato in oro questo caso mettiamo alimentazione normale 0 3 ohm allora andiamo a bagnare bene la resistenza ci mettiamo un po di liquido questo tipo di coil ovviamente non andateci a mettere dei liquidi troppo aromatizzati parlo degli american liquid si alimenta secondo me perfettamente con liquidi 50 50 ok allora ho messo un po di tabacco il mio messico fatto in casa con l'aroma della tea con base rebiglio 50 50 per me questo è la giusta composizione per questo tipo di coil qui parlo è della 0 3 classica di leaf l'andiamo a far bagnare bene e andiamo a richiudere il tutto mi raccomando cioè bagnatela bene metteteci il liquido ma non troppo perché sennò tende a perdervi questo sistema qui vi fa delle corcioline di liquido sulla ricarica allora stringiamo bene andiamo a ricaricare il serbatoio che si vedrà da qua ecco se si può notare avere avrete il livello di liquido messo qui laterale saliamo 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 eccolo qua l'abbiamo ricaricato non troppo eccessivamente parzialmente andiamo a richiudere il tutto allora rimontiamo il drip tip eccoci qua e l'ijust x di leaf è praticamente pronta ragazzi nulla di spaziale è una cosa molto semplice e intuitiva e molto elementare andiamo però al face to face per le considerazioni finali ecco ragazzi abbiamo visto più nel dettaglio questo kit entry level di ijust x no di ijust di leaf proprio l'ijust x con una batteria da 3000 mAh quindi una durata eccellente con delle finiture se vogliamo anche eleganti e molto carine ovviamente la dimensione signori è quella che è perché comunque abbiamo un serbatoio da 7 ml abbiamo una litio molto grande da 3000 mAh e che dire ragazzi molto 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 buono questo kit regolazione d'aria fissa quindi non dovete stare a regolare un tiro polmonare ovviamente perché la resistenza richiama proprio al tiro polmonare vedete le stesse coil sono su un ijust s su un ijust 2 sullo stesso melo 2 melo 3 eccetera eccetera e comunque fa un lavoro secondo me eccezionale veramente un ottimo kit entry level non è solo per un tiro prettamente da cloud per me può essere usata come un all day tranquillamente per sbavarci dei tabacchi 50-50 semplicissima da usare perché ha proprio questo contrasto questo passaggio chiamiamolo passaggio d'aria perfetto per utilizzarla come una sigaretta elettronica normale io personalmente due anni fa iniziai proprio con l'ijust 2 a me piaceva non facevo un cloud ovviamente spinto perché non conoscevo neanche i prodotti però piaceva proprio questo vapore spinto reattivo che mi veniva in bocca e utilizzavo dei tabacchi questa per me è un'innovazione fantastica uno straordinario kit per iniziare e chi piace una bella boccata di vapore non solo inserendo le coil da 0,18 con l'alimentazione del cotone più ampia possiamo andare ad utilizzare degli American liquid a chi piace no? questi liquidi aromatizzati tantissimo ci rito sempre il solito per capirci i Dupaft Mr. Menin Pie, chi più ne ha ne metta, i nuovi Mixeries potete inserirli ovviamente con una gestione della resistenza molto bassa perché anche se vi alimenterà bene, se funzionerà bene la sigaretta elettronica, la ijust X comunque la resistenza durerà molto di meno e nello stesso tempo potrete applicare un tiro meno spinto con la 0,5 ohm di Leaf e anche lì usare quello che volete nulla toglie che con la resistenza da 0,3 classica che sto usando io adesso potete tranquillamente inserire dei liquidi alle creme, alla frutta normali, io con questo tipo di resistenza, le classiche che dà ijust X 0,3 o 0,5 non vi consiglio di mettere liquidi americani troppo densi allora facciamoci un altro tiro perché veramente mi piace veramente tanto questa sigaretta elettronica di Leaf anche perché signori dai le resistenze le conosciamo tutti bene hanno sempre funzionato, hanno sempre avuto un funzionamento corretto e perfetto ragazzi non c'è nulla da dire, lascio a voi la scelta e la questione che è puramente e assolutamente estetica il prodotto funziona e anche bene per un costo molto ridotto ci aggiriamo intorno a una cinquantina d'euro al negozio fisico, non di più con questa sbavata ragazzi vi saluto, vi ringrazio molto per seguirmi ci vediamo al prossimo video, venitemi a cercare su Facebook e iscrivetevi al canale YouTube ciao, un saluto a tutti ciao